Terzo giorno senza sbarchi a Lampedusa, scoraggiati probabilmente dal rafforzamento dei controlli lungo le coste tunisine, ma certamente anche dalle condizioni proibitive del mare che ostacolano le traversate. Ma la pausa potrebbe durare poco. Si cerca infatti un barcone di 45 metri, carico di immigrati, forse addirittura 500, che sarebbe partito ieri dalla Tunisia, di cui non si hanno più notizie. Per questa ragione sono stati accelerati i controlli con un aereo della Guardia di Finanza e un pattugliatore della Marina Militare. Intanto a Lampedusa la situazione rimane critica. Attualmente nell'isola si trovano circa 1800 immigrati, quasi tutti ospitati nel centro di accoglienza, struttura concepita però per 850 posti. Nel centro del paese si vedono seduti nei bar, sulle panchine, passeggiare per strada, parlare tra loro con gli abitanti del posto, con i quali al momento non sarebbero sorti problemi. Ma oggi sono stati sospesi i quattro voli speciali per trasferire gli immigrati. Notizia che preoccupa il sindaco di Lampedusa de Rubeis. Per ora, afferma il primo cittadino, non ci sono problemi di ordine pubblico e tutti si comportano bene. Ma l'isola è piccola e questa situazione non può essere sostenuta ancora per molti giorni. De Rubeis parla anche di un problema igienico-sanitario nel centro di accoglienza, legato al fatto che non è ancora giunta la grande cisterna con l'acqua.